Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi ci vediamo ad un'ora insolita, infatti 19 è orario tipico del venerdì, però ieri non ero a casa, quindi in realtà video in programma per oggi non ce n'erano, ma dopo la live fatta stamattina, insomma c'è stata la possibilità di registrare questo video che secondo me può tornare molto utile, anche alla luce di quelli che sono i commenti che spesso e volentieri fate, infatti andiamo a vedere come glitchare queste benedette squad battle per evitare di andarli a giocare 20 minuti contro la CPU che diventano scoccianti, soprattutto al risultato ottenuto, in più andiamo ad analizzare anche il vendel che è uscito ieri e vi do un aggiornamento su quelle che sono secondo me a questo punto le migliori scelte da andare a selezionare dagli swap, quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere andiamo a vedere appunto di che cosa si tratta. Eccoci qua, dunque, proprio su quella che è una clip che ho registrato questa mattina in live, allora per quanto riguarda il glitch dovete innanzitutto avere come riferimento questa porzione di campo, quindi esattamente la lunetta dell'area di rigore, ok? Questa è la vostra area di interesse. Cosa dovete andare a fare voi all'interno di questa area di interesse? Dovete andare a fare una finta di tiro con l'L2, ovvero quella classica skill che praticamente porta il pallone da un piede a un altro, quindi tenendo premuto l2 schiacciate cerchio x quadrato x a seconda di quelli che sono insomma i vostri i vostri tasti, quindi l2 più finta di tiro, quindi facciamo x cerchio in questo caso, diciamo comandi classici, quello che effettivamente ne verrà fuori sarà esattamente questo movimento. Io qua lo failo inizialmente perché non è facile, comunque, ecco fatto, la finta è questa qua, però quella era la porzione di campo sbagliata, qui continuo a fare questa che non mi usciva, quindi non guardate questa qua, è esattamente questa la skill, quindi fate, eccola qua, questo movimento qui, dopo averla fatta schiacciate immediatamente quindi l2 poi di nuovo per dare le spalle al vostro difensore e quindi che cosa accadrà? Accadrà esattamente che il giocatore va a mettersi, vedete, con le spalle al marcatore e guardate qui, tenterà in vano di avvicinarsi per cercare di sottrarre il pallone al nostro attaccante. Guardate qua, io faccio scorrere un po' il tempo per farvi vedere che effettivamente la palla noia e la si toglie, qui la partita è finita esattamente così, quindi vedete qui come cerca di avvicinarsi ma non succede nulla perché il buon Bappé è come se fosse protetto da un'aura mistica in questo caso, vedete, guardate lì, io poi qui la clip la interrompo perché non succede più nulla, quindi per quanto riguarda il glitch è esattamente questo, vi faccio rivedere, bisogna andare a performare questa skill finta di tiro tenendo premuto l'L2 che porta la palla da un piede all'altro, schiacciate l'L2 per mettere il vostro fisico davanti e il difensore non vi toglierà più il pallone. A campione funziona perfettamente contro tutti i tipi di squadra, squadre oro, squadre bronzo, argento eccetera eccetera, riuscite a farla tranquillamente, quindi questo per quanto riguarda il glitch delle squad battle per evitare di giocarle. Che cosa succede però? A questo punto abbiamo visto come ieri si è uscita in realtà quella che è la sfida dei pick icon che possiamo andare a vedere se andiamo su footbin banalmente andando a duplicare la scheda, andiamo nella sezione relativa a quelle che sono le SBC, magari cancelliamo esatto quello che avevo fatto per la skill, eccoci qua, se andiamo nelle SBC abbiamo questo mid o prime player pick che è una sfida che costa un milione, un milione, però ti dà la possibilità di ricevere una scelta da tre icon ed è una roba gustosa perché secondo me, insomma, la possibilità di sculare è elevata, voglio dire, poi si sa, se vuoi sculare sculi, se va male va male, si sa che è come lanciare una monetina e decidere se esce test o croce. Quindi il discorso, anche in questo caso, selezione dagli swap, secondo me cambia scenario perché secondo me non ha più senso aspettare quello che è il pacchetto prime o prime moments ma ha molto più senso secondo me andare a sbloccare quelli che sono i pacchetti 83 più 25 giocatori, 20 giocatori 82 più, gli 81 più così e così, quelli lì li eviterei e ci andrei ad accoppiare a questi due una scelta di un icon. Tutto questo però perché in relazione di questo icon pick? Perché secondo me è molto valido, dura ancora nove giorni quindi c'è tutto il tempo, io infatti in prima persona ho aperto sia l'83 che l'82, dall'83 è uscita anche una valanga di Watif, quindi anche sotto questo punto di vista potrebbe essere utile, vi consiglio di aprirli venerdì perché la seconda squadra dei Watif secondo me sarà 100x, quella che è uscita settimana scorsa, quindi a questo punto secondo me la cosa migliore da fare è fare i pacchetti, aprirli venerdì, vedere che cosa vi esce e poi andare a riciclare tutto il materiale in eccesso all'interno di questo icon player pick che secondo me già sui 3-400k può essere interessante come sfida, visto che sicuramente non andate in perdita perché si date tutte quanti icon mid o prime che possono uscire, quindi sì possono uscire 3 pippe però comunque poi ve le ritrovate nel club, prima o poi sfide icon che richiedono icon da bruciare usciranno, quindi può tornare utile. Quindi questo è quello che è l'aggiornamento sulla situazione swap a mio parere dopo questo player pick icon. Per quanto riguarda poi invece questa SBC di Vendel che è un altro giocatore molto interessante che mi avete richiesto, parliamo di un giocatore con 4 skill e 3 di piede debole, 1,78, ha un body type lean quindi molto snello, un giocatore molto rapido, peccato per questo sprint speed 80 perché vuol dire che sulla corsa un po' cede, sull'accelerazione è un primo passo bruciante, però quell'80 di velocità scatto mi lascia un attimino così perplesso perché complice il fatto che non è che abbia questa falcata ampia, potrebbe veramente cedere il passo a quelli che sono gli attaccanti avversari. Deve ricevere sì in upgrade però comunque un più 2 non è che chissà quanto gli busta con la velocità scatto, quindi occhio, sì gli stili intesa ma occhio perché sapete quanto gli stili intesa non è che bustino più di tanto. Ha anche un ottimo passaggio corto, è lungo che è un pochino da rivedere purtroppo, cavoli terzini con passaggi lunghi buoni al momento non ce ne sono che sarebbero invece la svolta qualora uscissero, agilità è agile, ovviamente ha un buon controllo palla, buone reattività, buona freddezza al limite, in realtà 80 di freddezza, statistiche difensive che sono molto buone, in particolar modo ottima la scivolata, ottimo il contrasto, mentalità difensiva 83 non è proprio fantabolante però comunque è un buon attributo. Per quanto riguarda l'aggressività è il parametro che più mi sorprende perché vuol dire che questo si incolla come una cozza allo scoglio sui giocatori avversari e tanto li lascia quando gli strappa il pallone, peccato il 75 di forza. Quindi quello che è un po' il giudizio su questo Wendel è che sicuramente parliamo di un buon giocatore, parliamo di un giocatore che ha anche dei link interessanti, penso a un Tapsoba, penso a un difensore centrale Icon e a un Neymar, quindi sicuramente come terzino complice della nazionalità è molto interessante. Vi ripeto, per i difensori e i portieri è molto facile ricevere l'upgrade, quindi per 200k, considerando carte nel club, in relazione anche a quelli che sono gli 85, i 25 giocatori 83, 82 e più, lo riuscite sicuramente a pagare anche meno con materiale in eccesso, potrebbe essere sbloccato, stile intesa consigliato, come tutti i terzini io gli metterei un'ancora e secondo me questo qua, anche banalmente da tenere nel club, può ritornare sempre utile, quindi questo per quanto riguarda il buon Wendel. È nuda ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo domani con il questo o quello, grazie ancora a tutti per la visione, vi ricordo di lasciare un like e un commento, fatemi sapere se conoscevate il glitch, se avete sbloccato Wendel, che ne pensate, se si sente la sua velocità, un po' deficitaria, trovate in descrizione tutte le info per le live sulla piattaforma Viola, e raga, nulla, io vi auguro una buona serata, un soldone a Riberoski, ciao ciao!